Madonna e Fiorentina, io mi devo sdebitare con questi miei amici e vi prego di una cosa sola, fateli divertire, mettetecela tutta. Che ci si pensa a noi? Te sei da topo o la passina? Noi sei due fringuelloni. Allora, vi venga a riprendere fra un'oretta. Sì, vi ce la riprende tra un'oretta, abbondante, grazie. Via, via, via. Vartere! Che c'è, che c'è? Buona zingarata! Ma questa non è una zingarata, l'è una maionata! Due geni, due scienziati, due simpaticoni! Caro principe, questa è quel che si dice una trombata storica, è strasicura. Quando metti la gonna tu voglia del quattrocento, chi lo vien a sapere? Chi lo vien a sapere? Rosanna, amore! Ma ti è già beccato? Eh sì, siamo nel rinascimento. Come dici? Ah, che tra poco il guasto è rimanato. E fate con calma. Eh sì, e dite al professore che non c'è fretta. Che non c'è fretta! Non c'è fretta! Eh, sì, va bene. Ciao tesoro. Sì, ciao, ciao tesoro. Ciao, 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 ciao. Ecco, Savonarola, questa è la prova che sono inviati del demonio. Attraverso quell'oggetto di avorio parla con l'inferno. Sono due satanassi. Oh rogo, oh rogo! Scusi, ma che cazzo vuole qua? Entra, va, costrafaccia d'ambasata, rogo. Per piacere, siete uccati. Ci sono tre signori. Anche voi andiamo, signori. Sia, fai gentili. Come ha detto? A rogo. Oh, madonna! Non fatemi del male. Non fatemi del male.